Ciao Youtube, oggi parliamo di pompa di calore con sonde geotermiche, abbiamo qui il nostro aperto, la macchina lavora su 4 sonde geotermiche, circuiti in fase di completamento, macchina recupero termico, intracircuiti, dissipazione, sonde geotermiche e lato interno. In questo momento la macchina è in fase di recupero termico, sta smattendo il calore di condensazione sull'acqua calda sanitaria. E anche oggi, per oggi è tutto. Grazie sera. Ciao e tu. Via.